forte, lei diceva prima rivolgersi ai politici, io insegno da 44 anni sociologia del lavoro, la prima carta di sociologia del lavoro in Italia, facciamo ricerche anche gratuitamente, non c'è stato mai un politico fino a sei mesi fa che mi avesse chiesto una ricerca sui problemi del lavoro. Adesso c'è una novità, o no? Uno gliela chiesto fino a sei mesi fa. Sono venuti da me, hanno bussato a mia porta due giovanissimi deputati del Movimento 5 Stelle. Lei li ha ricevuti? Io li ho ricevuti, abbiamo fatto una malattia. I primi a venire a chiedere, un esperto, diciamo così, una sorta di consulenza del Movimento 5 Stelle. E di queste cose non si parla mai, tutti andati addosso, anche qualche volta, anche con motivo. Però devo dire che abbiamo fatto un convegno, sono venute 600 persone. Va bene, sono di quelle cose che servono.